Ma noi adesso, a proposito di grandi attenzioni, caro Toni, come avevamo detto, ospitiamo una figura di rilievo nell'ambito della difesa dei diritti umani fondamentali. Sì, oggi l'argomento del giorno previsto era l'informazione, ma sconfiniamo. Il nostro ospite, ovviamente, non ce ne vorrà. È Riccardo Nuri, il portavoce di Amnes International Italia. Buongiorno Riccardo. Buongiorno a voi. Ben trovato. Ecco, il nostro Toni Augello anche ti ha salutato. Una giornata particolare perché vogliamo subito commentare con te l'ultima sentenza della Corte Costituzionale che riguarda Giulio Reggeni, per il quale ci siamo tutti addolorati, ci siamo in tanti battuti e vogliamo appunto che l'Italia dia il buon esempio nel rendergli giustizia. È stata una giornata bella, frutto di una sentenza importante. si farà un processo, anche se in contumacia, cioè in assenza degli imputati, però si farà e finalmente in un'aula di giustizia si cercherà il riscontro a quello che è l'esperienza, le ricerche fatte in questi anni, quello che dice la Procura di Roma, quello che dicono le organizzazioni per i diritti umani già è emerso. Allora in pratica per chi non lo sa però voglio appena appena accennare al fatto che perché finora i quattro imputati non potevano essere convocati per una questione di forma, nei processi in genere la forma è sostanza, però questa volta anche se non è stato possibile notificare gli atti, correggimi se sbaglio Riccardo, si andrà comunque avanti. Secondo te i giuristi della procedura, gli esperti potranno avere da arricciare il naso? Beh di fronte a una sentenza della Corte Costituzionale no, perché un conto è quando la procedura garantisce i diritti di chi ad esempio non sa che c'è un'indagine nei suoi confronti o addirittura un processo, ma questi erano degli assenti perfettamente consapevoli. Cosa è successo? Le autorità egiziane semplicemente si sono rifiutate di comunicare agli indirizzi dei quattro agenti dei servizi, quindi non quattro cittadini comunque o qualunque, gli atti che dovevano essere notificati. In assenza di questi indirizzi gli atti non sono mai stati recapitati. Fino a ieri si diceva che questo era un impedimento, da ieri non lo è. Cosa farete? Visto che sul vostro sito amnesty.it avete tantissimo materiale su Giulio, metterete qualcosa in più? Ecco, oltre al ricordo ovviamente sempre di quella data, il 25 gennaio del 2016, sette anni fa, e da allora si cerca di illuminare le piazze appunto per ricordarlo. Che altro aggiungerete? Al momento direi la campagna che è durata per sette anni aveva un obiettivo, quello di entrare dentro questa campagna con tutto ciò che l'ha sostenuta, entrare dentro un'aula di giustizia. Ieri ci siamo riusciti, quindi il risultato è stato colto. Ora che inizierà un processo è bene che si svolga con i diretti interessati, senza interferenze dall'esterno, della politica, delle organizzazioni per i diritti umani. Quindi adesso facciamo un passo indietro e vediamo finalmente questo processo che inizi, che va davanti e si concluda presto e bene con quattro condanne. Voi che la sentite spesso, come sta la famiglia di Giulio? Beh, io ieri ho letto la loro dichiarazione ed era una dichiarazione di contentezza. Se posso scomodare il paragone è come se una volta Davide avesse battuto Golia. Bello, ci piace molto. E finalmente ho notato in quella dichiarazione un senso di sollievo, di soddisfazione, di giustizia un po' più vicina. Tony, a te. Giornata internazionale dell'accesso alla informazione. Però ecco, nonostante i potenti mezzi che abbiamo a nostra disposizione, oggi è ancora un diritto tutto da conquistare in alcune parti del mondo e assolutamente da tutelare in altre. Come valuti tu la situazione attuale sul fronte di questo diritto? È un diritto sempre più compromesso, il diritto ad accedere all'informazione per il fatto che il diritto di informare viene negato in decine e decine di paesi, sempre più di fronte a scenari di crisi, povertà, conflitti, corruzione. I giornalisti che denunciano vengono censurati, vengono arrestati, processati, condannati, uccisi. Voi state mostrando l'immagine, una delle più iconiche di questi anni, Jimmy Lai, fondatore del Daily Apple, un quotidiano di Hong Kong che è stato ridotto al silenzio. Lui è stato arrestato alla fine del 20, a seguito dell'entrata in vigore della legge sulla sicurezza nazionale, che ha reso Hong Kong un deserto dei diritti umani e dunque anche dell'informazione, così come la Cina continentale. E questa è solo una delle tante storie di attacco alla libertà di informazione. Sì, infatti sul vostro sito, lo ricordo anche ai nostri gentilissimi collaboratori dall'altra parte, c'è anche amnesty.it, libertà di espressione, quindi avete un dossier lunghissimo purtroppo che riguarda, eccolo qua, tanti altri casi. E Hong Kong dunque purtroppo potrebbe fare scuola, nel senso che noi siamo più abituati a vederla come una terra in cui non ci sono gli stessi problemi che in Cina. Cosa sta accadendo? Eravamo abituati a vederla così, giustamente. Vedevamo le piazze piene di manifestanti per la democrazia. Poi nel giugno del 2020, Pechino ha introdotto, senza un dibattito parlamentare, senza consultare la società civile di Hong Kong, la cosiddetta legge sulla sicurezza nazionale che impedisce qualsiasi forma di dissenso pacifico, non violento, che ha prodotto la chiusura di organi di informazione, di sindacati, che ha impedito di manifestare in strada, ha impedito di commemorare la strage di Tiananmen dell'89 a Pechino, ha persino costretto Amnesty International a chiudere. Non è il fatto più grave, ma questo la dice lunga sulla situazione. Ripeto, è un deserto dei diritti umani Hong Kong, tanto oggi quanto lo era Pechino negli ultimi decenni. E allora comunque i nostri telespettatori possono attraverso il vostro sito comunque occuparsi appunto di tante campagne, ma anche di casi singoli. Io prima di lasciarti torno all'attualità, ecco questo arrestato per il diritto all'istruzione, vedo che siamo in ambiente arabo, non mi ricordo in che stato. In Afghanistan. Ah, proprio in Afghanistan, quindi lì dove le donne purtroppo stanno soffrendo in modo indicibile proprio come categoria, sto per dire, ma purtroppo è così. Ci riavviciniamo un po' di più a noi, pur andando sempre verso est, perché l'attualità ci parla del Nagorno-Karabakh, un enclave di cui certamente sanno soprattutto gli addetti ai lavori, però di fatto, per fortuna se ne parla in tutto il mondo, ma siamo davanti non a un nuovo genocidio degli armeni, ma sicuramente a una persecuzione di massa, giusto? Sì, sì, è il secondo tempo di una persecuzione iniziata nel 2020, quando l'Azerbaijan con un'offensiva militare ha recuperato buona parte dei territori che l'Armenia aveva strappato un paio di decenni prima, e quello fu il primo tempo. Il secondo è successo esattamente in questi giorni, approfittando del fatto che una parte dei paesi lì della zona, anche i rispettivi protettori, la Russia per l'Armenia, la Turchia per l'Azerbaijan, sono impegnati a vario livello nella guerra di Ucraina. L'Azerbaijan ha, dopo aver chiuso per mesi l'unico corridoio che consentiva l'afflusso degli aiuti dall'Armenia alla comunità armena del Nagorno-Karabakh, ha preso altri territori, ha costretto a una nuova fuga di massa, e l'espressione pulizia etnica ci sta tutta, perché sono dovute andar via centinaia di migliaia di persone. È una crisi che ha conosciuto questo sviluppo, che potrebbe essere definitivo, nel senso che la comunità armenia nel Nagorno-Karabakh rischia semplicemente di non esserci più. Secondo te il mondo reagirà? Non credo, è un conflitto deglassato a scontro locale, ripeto, Turchia ha dato via libera ovviamente al suo alleato, l'Azerbaijan, però è interessata a fare della mediatrice su altri fronti di crisi internazionali. La Russia si è disinteressata completamente del problema, avrebbe dovuto difendere l'Armenia, di cui è alleata politicamente, ma come sapete ha altro da fare, purtroppo in maniera estremamente rovinosa in Ucraina. Grazie Riccardo per averci aiutato a mettere a fuoco questi temi così importanti in tante parti del mondo che poi a volte non conosciamo così bene, per cui è molto prezioso il tuo intervento, ti ringraziamo per essere stati con noi stamattina nella giornata internazionale per l'accesso all'informazione. Un saluto e un grazie a tutti voi, non solo a te, per quello che fate. A presto. Grazie, a presto, buona giornata. Siamo pronti per un'altra pausa pubblicitaria.